Benvenuti nel mondo HD3. HD3 è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 2006 dal designer di orologi Georg Isek, insieme a Valérie Ursenbacher e Fabrice Gonet. Il marchio è noto per la sua produzione di orologi di alta gamma con un design futuristico e innovativo, che rappresenta una sintesi perfetta tra la tradizione orologera svizzera e la modernità. I modelli HD3 sono caratterizzati da un mix di tecnologia, design e artigianalità, e vengono realizzati a mano in Svizzera utilizzando solo i migliori materiali e meccanismi svizzeri di alta qualità. Ogni orologio HD3 è un pezzo unico e irripetibile, un'opera d'arte che racchiude al suo interno tutta la maestria dell'artigianato svizzero. Uno dei modelli più famosi di HD3 è il Vulcania, un orologio con un design futuristico e innovativo. La cassa dell'orologio è realizzata in titanio e presenta una serie di finestrelle che consentono di vedere il movimento del meccanismo interno. Il quadrante è costituito da un sistema di dischi rotanti che indicano l'ora e i minuti, mentre il retro dell'orologio presenta un indicatore di riserva di carica. Il Vulcania è un orologio unico nel suo genere, che incarna perfettamente lo spirito innovativo e all'avanguardia di HD3. HD3 produce anche orologi con altre complicazioni meccaniche, come il cronografo e il tourbillon, che rappresentano la massima espressione dell'arte orologera svizzera. Inoltre, il marchio collabora regolarmente con altri marchi di lusso per creare orologi unici e innovativi che soddisfino i gusti più esigenti. In conclusione, se stai cercando un orologio di lusso con un design unico e innovativo, HD3 è sicuramente un marchio da considerare. La qualità artigianale e l'utilizzo dei migliori materiali e meccanismi svizzeri di alta qualità fanno di ogni orologio HD3 un pezzo di alta gamma che rappresenta l'eccellenza dell'arte orologera svizzera. Grazie a tutti.